C'erano anche il sindaco Bennardi e l'assessore Cotugno ad accogliere 60 bambini che hanno ripreso le elezioni nella sede di via della Quercia, rione la nera Matera, per l'inagibilità dell'edificio di via Frangione ad Agna. Una soluzione temporanea, ha detto il primo cittadino, in attesa di verificare le cause dell'allargamento delle crepe sui muri del plesso inaugurato nell'agosto del 2020. Vogliamo capire perché una struttura riqualificata tre anni fa sia già inagibile, impegnandoci nel procedere rapidamente con le verifiche tecniche preliminari e i successivi lavori di ripristino e messa in sicurezza. Grazie a un costante confronto con lo dirigente scolastico, con gli insegnanti, i genitori, la ditta della mensa, l'ufficio tecnico e l'ufficio scuola, siamo riusciti a far riprendere l'attività scolastica. Interventi fatti in tempi record per allestire altri bagni e un'ulteriore saletta al servizio della mensa in via della Quercia, mentre il personale scolastico si è adoperato per liberare gli spazi. Faremo il possibile per velocizzare il ripristino e rientro nel plesso di via Frangione, compatibilmente con l'accertamento delle reali cause delle fessurazioni riscontrate nelle pareti e con la certezza della messa in sicurezza. Il sindaco Bennardi ha infatti commissionato una relazione dettagliata sugli eventi recenti che hanno riguardato l'edificio, allo scopo di individuare le cause e definire gli interventi necessari per un rapido rientro degli studenti nel loro plesso di Agna.